No ai consultori privati, mentre quelli pubblici vengono chiusi e svuotati di personale privando la comunità di strutture gratuite e laiche. E' questo il grido d'allarme che lanciano associazioni sindacati riunitisi questa mattina per un sit-in davanti al consultorio pesarese delle Cinque Torri. Manifestanti che attaccano, come con un emendamento al decreto PNRR, sia stato previsto che la Regione Marche, nell'organizzare i consultori, possa valersi del coinvolgimento di soggetti del terzo settore, con il rischio esternato dai manifestanti dell'ingresso delle associazioni provita anti-abortiste all'interno delle stesse strutture. Dopo 30 anni dobbiamo ricominciare quasi una battaglia per la quale tante donne in tutto il Paese si erano spese, perché la battaglia per la possibilità di usufruire di una legge è una battaglia che tante donne hanno compiuto decenni fa. Tornare oggi a ridiscutere questo ci sembra veramente in qualche modo un disconoscimento delle battaglie che tante donne hanno fatto. Certamente nessuno parla di abolire la 194 perché sarebbe una cosa nemmeno la destra, perché sarebbe un fatto talmente eclatante che anche loro si rendono conto che non è possibile, ma svuotarla da dentro è un affronto alle battaglie delle donne e oltre alle battaglie ai diritti che le donne hanno di scegliere consapevolmente la maternità e lo fanno quando hanno bisogno di usufruire di questa legge per un'introduzione di gravidanza con grande dolore, perché per le donne un aborto non è mai un fatto indifferente. Noi sappiamo benissimo che la regione Marche non ha ancora recepito quel provvedimento ministeriale del 2020 dove diceva le regioni che dovevano introdurre non solo l'aborto chirurgico ma anche l'aborto farmacologico con la RU486. Ecco, questo per noi vuol dire impedire alle donne di accedere a un servizio che anche la medicina oggi ha migliorato non facendole andare nelle sale operatorie per fare l'interruzione volontaria di gravidanza ma attraverso un farmaco somministrato con delle previsioni come dire ministeriali, perché mentre in Francia ad esempio l'RU486 viene assunta addirittura a casa, in Italia è previsto che sia somministrata in ospedale, ma va bene anche questo, l'importante è che sia un farmaco che sia a disposizione dei consultori, degli ospedali. Il consultorio è il luogo dove si realizza la sanità territoriale di prossimità, perché ci sono 66 consultori nelle Marche, c'è bisogno di potenziarlo. In 7 consultori delle Marche tutti i professionisti sono obiettori, quindi alcuni dei diritti che devono essere esercitati in quel luogo di fatto vengono impediti e noi chiediamo un cambio di passo radicale e che ci sia un rilancio del settore pubblico, non il collasso del pubblico a favore di associazioni private, tanto più quando quelle associazioni private hanno una matrice religiosa che quindi mina nel profondo il diritto all'autodeterminazione della donna.